Massimo Bitonci, chi ha ragione? Matteo Renzi che vuole aumentare gli stipendi o Giorgio Squinzi che vuole ridurre il costo del lavoro? Direi che sono importantissime tutte e due le misure. Io l'ho detto subito anche l'altro giorno, il taglio dell'IRPEF è importante perché porterà a un aumento dei consumi. Uno dei problemi maggiori del 2013 è stato appunto quello, una riduzione drastica dei consumi, perfino i consumi alimentari. Però c'è anche l'altro tema che è quella della riduzione del costo del lavoro e anche del taglio dell'IRPEF. L'IRPEF costa circa 35 miliardi alle imprese, è una tassa sul fatturato, è una tassa sulle perdite perché purtroppo ha questo effetto perverso che va a colpire soprattutto chi ha alti costi del personale e chi ha forte indebitamento e interessi passivi bancari. Quindi io direi che la ragione ce l'hanno un po' tutti e due. Certo che per partire forse è anche opportuno dare maggiore risorse alle famiglie in modo che abbiano una maggiore propensione al consumo.